Se da un lato la sosta in centro città diventa più salata, dall'altro scattano nuove tariffe per i residenti nella città muraria. Queste le novità presentate da Atam. Obiettivo principale è quello di disincentivare la sosta nei parcheggi centrali, favorendo così una maggior rotazione, ma anche incettivare l'utilizzo dei parcheggi periferici come Mecenate e Baldaccio. Le novità sono semplicissime, sono due in particolar modo. Uno è il dimezzamento del costo degli abbonamenti per i residenti. Si passa da 20 euro a 10 euro. Questo per dare una risposta a chi vive quotidianamente tutto il giorno determinate aree. È una risposta importante nei confronti di tanti cittadini che sono costretti a parcheggiare all'interno della ZTL nelle aree dove ci sono i parcheggi blu e in qualche modo gli diamo una risposta. Nel contempo abbiamo adeguato tutte le tariffe all'interno della cinta muraria a 1,50 euro, da 1,30 euro a 1,50 euro. Questo per uniformità perché ce ne erano alcune più alte e altre più basse. In qualche modo viene adottata una linea unica e questo serve da un lato per cercare di creare più rotazione all'interno del centro e dall'altro per cercare di incentivare i cittadini che vogliono stare tante ore in centro a utilizzare i parcheggi di cintura, il baldaccio, il mecenate. La soddisfazione principalmente è quella rivolta ai residenti proprio perché la scelta dell'amministrazione comunale di abbattere il costo da 20 euro a 10 euro è importante. Le altre sono piccole modifiche e modulazioni che servono principalmente per favorire l'accesso ai parcheggi quelli che sono più esterni, quindi mecenate e baldaccio, proprio perché è chiaro che se tu cerchi di andare in centro si comprende facilmente come una tariffa un pochino più elevata e che favorisca invece l'accesso a parcheggi come il mecenate e come il baldaccio con tariffe ultra convenienti che quindi permettono un risultato eccellente.